Non senza un po' di emozione si annuncia questa candidatura. Sì, è una giornata importante per me, come nel lavoro prendo le cose sul serio e mettersi al servizio della propria città è una cosa importante. Quindi ora vedremo naturalmente la risposta dei cittadini aretini ai programmi che proporremo. C'è un lavoro fatto, c'è una coalizione solida che mi sostiene, vedremo nei prossimi incontri le risposte che avremo e poi naturalmente le parole agli elettori a settembre. In particolare rispondendo a una domanda di una collega su Marco Donati, addirittura che andrà ad intercettare l'elettorato di centrodestra. Io penso che lui abbia individuato nell'elettorato di centrodestra uno spazio perché non c'è così coesione sulla proposta Ghinelli e quindi credo abbia individuato questo. D'altra parte era lentamente uscito dalla nostra alleanza di centrosinistra, non è più in Italia viva, quindi è una cosa come dire. Io notoriamente ho avuto sempre buoni rapporti, quindi le scelte politiche sono altre cose. Come ho buoni rapporti con tutti gli altri candidati a sindaco, compreso Ghinelli. Diciamo che c'era, secondo me, nell'aria, lui ha scelto il momento che ha ritenuto opportuno perché era un po' di tempo che era fuori d'Italia viva. Infatti io ho visto che ha fatto un'associazione Italia agile, che quindi è altra cosa. Mentre Italia viva rimane nella coalizione. Noi abbiamo rimesso in piedi stabilmente, solidamente, come non succedeva da anni, il centrosinistra di governo e però l'abbiamo allargato e lo stiamo allargando. Ecco, lei è un medico, ha fatto la scelta durante il periodo della pandemia di tra l'altro nemmeno esporsi pubblicamente, nonostante le richieste che le arrivavano. Quanto peserà il tema sanità nel suo impegno? Perché, come i suoi colleghi medici hanno ribadito, l'ospedale San Donato rischia di essere ancora penalizzato. La ASL ha annunciato un potenziamento, però, ecco, credo che un sindaco su questo possa incidere. Sì, io credo che da un lato l'ospedale San Donato, ma la sanità pubblica, debba dare risposta a tutte le emergenze, quindi una penalizzazione in senso di un lavoro aggiuntivo. In più, oltre all'ordinario, la mia azione sarà anche quella di potenziare l'ospedale San Donato, ma anche l'attività territoriale dei medici di famiglia, della grande esperienza che abbiamo delle cure a domicilio. Il polo sanitario aretino, per questo lancerò e porterò avanti a Rezzo il laboratorio della sanità toscana dei prossimi anni, perché comunque avrà bisogno di un'innovazione, è un polo importante, che, voglio dire, anche nel privato è un polo, per esempio, che di livello dell'area toscana centrale, il pubblico, voglio dire, è un ospedale che ha tutte le specialità. E credo che, dopo un periodo, diciamo, difficile, che io, peraltro, avevo denunciato pubblicamente, ora siamo in fase di ripresa. La regione toscana, tra l'altro, ha assunto molti giovani medici, molti infermieri, c'è un entusiasmo. E la cosa più bella, cosa che non vedeva da decenni, è l'entusiasmo di voler partecipare alla riorganizzazione, al futuro della sanità pubblica dell'ospedale San Donato, dagli operatori. E questa volta, io dico, gli operatori dobbiamo ascoltarli. E poi lei ha detto che prenderò le scelte in prima persona, cioè non sarò un sindaco al quale si potrà tirare la giacca, insomma. No, questo l'ho già detto alle mie alleanze, questo può avere per alcuni anche un limite, ma io sarò il sindaco di tutti e vorremmo tenere conto di tutte le esigenze, anche di singoli di questa città, ma l'obiettivo è fare le scelte per la comunità.